Siamo a Roma Artist Talent, abbiamo qui oggi Marta Di Domenico. Ciao Marta, come stai? Bene. Stai bene? Sì, sì. Sicura? Ti vedo un po'... Stai un po' in tensione, no? No, no. Stai proprio tranquilla, tranquilla? Sì, sì, dai. Senti Marta, tu sei... Quanti anni hai? Undici. Undici. Però guarda che ragazza, eh? Che sei, sembra che insomma ce n'hai un 16, 17, vero? Specialmente la voce, t'ho sentito, eh? T'ho sentito, io faccio finta che non... Eh? Ma tu hai una voce stratosferica, vero? Esatto. Agli Ustar, lì, quando abbiamo partecipato, sono accorti tutti quanti, eh? Che poi è stata... Vogliamo salutare la nostra amica Barbara Gallozzi, visto che ci troviamo? Ciao Barbara, qui abbiamo Marta Di Domenico e poi dopo abbiamo anche un'altra sorpresa che ti faremo vedere, eh? Quindi, ok, Barbara abbiamo salutata. Però, Marta Di Domenico, fa che non sia mai. Che cosa? Eh? Che cosa non devi fare mai? Tante cose. Tante cose? Ma nello specifico vogliamo cantare questa canzone di chi è? Eram e Passavanti. Ok, allora, guarda che questa non è una canzone facile, Marta, stavolta stai un po'... Eh? E a proposito, ma Paola Fabrizio... Sì. Che dici? Mi piace molto anche a lei questa canzone, è molto bella. E chi l'ha scelta, te o lei? Diciamo tutte e due insieme, io era da tempo che mi piaceva questa canzone e l'abbiamo preparata insieme. Gliel'hai proposta e lei ha detto sì? Sì, è stata un po' una cosa di tutte e due. Ah, perché Paola, Paola, lei se non è una canzone subito dice, eh? Sì. La vogliamo salutare Paola? Saluta un po' Paola, vai. Come ciao? Ciao Paola, ciao Paola. Eh? Ok, poi dopo in settimana la vediamo, no? Sì. Va bene, ciao Paola, anche da me e da tutto lo staff di Studio 4. Allora, signori, per Roma Artist Talent, per il Festival della Canzone, abbiamo Marta Di Domenica con Fa che non sia mai di Eramo Passamenti. Per voi. Grazie.